e allora siamo sempre qui aspettando i nastri d'argento 2012 con Andrea Bosca Andrea Bosca che ricorderete abbiamo intervistato da Cortina, mi sembra che fosse Cortina perché abbiamo fatto tanti di quei giri e qui invece è premiato addirittura con il premio Abiraghi, un premio prestigioso e le sue due opere sono Magnifica Presenza e Gli Sfiorati Salve Andrea Ciao What the nef, perché da quando ci siamo riusciti a Cortina che è successo? Beh è successo che allora da Cortina ho fatto uno spettacolo teatrale a Roma al Teatro India che si chiama Jakob von Gunten lì sono un protagonista ma lavoro sempre in contemporanea con quattro attori pazzeschi che si chiamano Emiliano Masala, Monica Piseddu e Alberto Astorri e io ero il quarto, forse non così pazzesco a questo punto, per la regia di Elisa Ferlazio Natoli cercheremo di venderlo e portarlo avanti invece in questi giorni, da lunedì, quindi tra due giorni, sono sul set di Matteo Vicino in una commedia che si chiamerà Outing Fidenzati per Sbaglio dove sono con Massimo Ghini, Vaporidis, poi c'è Claudia Potenza che c'era già in Magnifica Presenza e Giulia Michelini e anche altri insomma E' divertente questo film, raccontacelo in due battute Beh è la storia di due che per poter prendere un finanziamento e mettere su un atelier si spacciano per una coppia di fatto, insomma due truffatori due truffatori che mettono in piedi una farsa, come dire, una coppia gay che non sono quindi è divertente perché è tutta una commedia di equivoci E tu che parte fai? Io la faccio da parte di questo disegnatore di abiti, quindi questo stilista che non riesce dalla Puglia a bucare a Milano e quindi rimane un attimo interdetto ho il suo amico che è un po' più trafficone, dice vieni qua che facciamo questa cosa lui non era subito d'accordo, però alla fine poi... Ha capito che può rendere In qualche maniera sì, ma in realtà poi vedrete che ci sono vari step prima di farsi dare un finanziamento del genere Prossimo teatro? Io penso che porteremo in giro questo e la mia opera che è Come vivo acciaio che è uno spettacolo che abbiamo scritto e diretto con Elisa Galvagno, una mia compagna di scuola che adesso è diventata attrice e regista come me quindi speriamo di poterlo portare a Roma, ti inviterò Grazie mille, all the best, intanto auguri per questo premio Grazie, grazie mille, sono emozionatissimo stasera Ciao 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 Grazie a tutti